80 trattori e 107 pullman. Per due minuti è stata fatta suonare una grande sveglia per sollecitare l'operato della Regione Calabria nel mondo agricolo. Ma cosa resta oggi della grande manifestazione di col diretti alla città della regionale? Intanto ha generato una simpatia in questa regione rispetto ai temi dell'agricoltura, rispetto alla priorità che dovrebbe avere nella nostra regione questo settore. Non perché noi siamo agricoltori, ma perché ormai il cibo ha una stretta relazione con la salute, con la cultura, con la possibilità di rafforzare il turismo, con l'economia di questa regione, con l'occupazione, i giovani. Quindi questi sono temi che ovviamente interessano non solo le aziende agricole, ma interessano l'intera regione. E intanto la col diretti prepara un'altra importante manifestazione. Noi domani presenteremo questo menù di Campagna Amica che significa che per la prima volta in una mensa pubblica ospedaliera, quella del Pugliese Ciaccio, ci saranno prodotti a chilometro zero di aziende di Campagna Amica col diretti. E quindi daranno sicuramente un'opportunità di degustare i prodotti di stagione, pensiamo dall'insalata alla frutta. Per il momento ovviamente a chi ha necessità di stare in quei luoghi e quindi in qualche modo anche con il prodotto, con quello che riesce a degustare, può trovare qualche soddisfazione in più. Ma è anche un segnale economico perché spendere dei soldi pubblici per l'attività delle menze pubbliche e non utilizzare i prodotti del territorio sarebbe una beffa.